Ciao amici di Videoradio Channel, oggi parliamo di un ragazzo sconosciuto. Il nome è conosciutissimo, ma il ragazzo è sconosciuto. Luigi Tenco, professionista dall'età di 20 anni fino a 28 anni, quando poi purtroppo è accaduto ciò che tutti sappiamo al Festival di Sanremo. Chi era Luigi Tenco? Luigi Tenco era un ragazzo che amava osservare la natura, il mondo circostante, le persone, le civiltà, le persone e raccontare ciò che recepiva attraverso queste sue sensazioni, raccontarle attraverso le canzoni. Quello che ingiustamente viene detto di lui, soprattutto nel primo decennio, dopo la sua morte, quindi tra il 67 e il 77, non è vero. Non è il ragazzo depresso, non è il ragazzo triste, non è il ragazzo tenebroso. Sicuramente l'immagine del tenebroso che gli aveva attribuito qualche fanciulla prima di diventare musicista l'ha portata avanti perché ha scoperto che piaceva, ma erano anche gli anni in cui James Bond era un bel tenebroso, aitante e pieno di azione, quindi era anche un periodo storico particolare. Chi è Luigi Tenco? Luigi Tenco viene conosciuto per la canzone Ciao More Ciao al Festival di Sanremo, ma in realtà tornando indietro nel tempo Luigi Tenco è uno che canta la natura, che canta l'amore, che canta anche le problematiche vissute degli altri. Lo canta con le ballate che sono ritmate, sono divertenti e su questo è molto in sintonia con Fabrizio De Andrè, quindi ci sono delle ballate antimilitariste, ballate contro la società, più che contro osservavano degli aspetti anche ironici, ma insomma avevano una forma di contestazione di quello che non andava bene della società. Arriva poi il momento del festival in cui gli viene proposto di esibirsi, firma un contratto per poter partecipare, è obbligato quando poi decide che non fa per sé, come già in precedenza aveva rifiutato di partecipare, è obbligato a mantenere, a ottemperare al contratto, quindi decide di andare al festival di Sanremo con una canzone contro la guerra. Livi di tornare era il titolo, nel frattempo abbiamo capolavori del tipo Mi sono innamorato di te, ho capito che ti amo, cara maestra, dove lui mette sotto giudizio di chi lo ascolta, quindi non sotto il proprio giudizio, il preside che pretende che ci si alzi, che gli alunni si alzino quando entra il preside dentro una classe, però se entra il bidello gli alunni possono rimanere seduti, così come il parroco della chiesa che dovrebbe accogliere i poveri in realtà è piena di sfarzo e alla fine anche il sindaco che incita tutti quanti ad andare in guerra per la patria, però gli altri muoiono il sindaco. No, quindi questi sono un po' i valori di Tenko. C'è una canzone in Italia poco conosciuta, ieri, è vero che riprende ritmi di un'altra canzone internazionale, di un successo inglese, però è comunque un rock and roll perché in pochissimi sanno che ha avuto le sue avventure anche nel rock and roll. e ecco perché c'è un percorso molto ampio e arriviamo al Festival di Sanremo, decide di partecipare con questa canzone e nel 67, come tutti saprete, c'è la guerra in Vietnam, altre guerre, quindi gli viene imposto, diciamo in maniera indiretta, ma comunque imposto di cambiare la canzone. A cosa si dedica? Sperando di farla come aveva fatto, vedrai vedrai, spera di fare anche ciao amore ciao, un inno all'uomo, alla società, di liberazione però in un certo senso, che in realtà è obbligata ad andare nelle città per trovare lavoro quando nelle proprie case possono trovare soluzioni migliori. Poi quello che è successo lo sappiamo tutti quanti, ma il percorso di Tenko è veramente molto ampio, musicalmente parlando e anche storicamente parlando.